Ora devo tagliarmi i capelli, guardi, se vuole all'una perché sto mangiando. Eh no, non va bene, perché se lei fa l'orario continuato, il continuato vuol dire che deve essere a disposizione 12 ore su 12, stu cazzo, cioè io devo mangiare, no non va bene. Poi il tipo se ne è anche uscito incazzato e è andato a lamentarsi al bar, perché secondo lui il continuato noi siamo delle macchine, non possiamo fermarci, non possiamo mangiare, non possiamo andare in bagno, ma che cacchio vuole, se viene qua l'orario a zero, così vedi che qua dentro si dimentica il posto, va bene, adesso mi sono rotta, dovremmo sempre mancare.